Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Era in tribunale con la sua ex moglie. Ho un cognome da leone. Tuba Buyukustun è stata vista lasciare Nisantasi l'altro giorno. Tuba Buyukustun una volta è stata citata in giudizio dall'artista per aver utilizzato il cognome del suo ex marito Engina Kurek. Tuba Buyukustun ha detto quanto segue sulla questione. È passato molto tempo da quando ho cambiato il mio cognome. Non apparve sullo schermo per un po' e la gente non ne era consapevole in quel momento. Quando si sono voltati verso lo schermo, hanno visto che avevo cambiato di nuovo il mio nome da nubile. Ero felicemente sposato con lui. Lo amavo. È il miglior padre del mondo. Lui ed io ci siamo costruiti una nuova vita. Un'umanità molto dignitosa e civile. La legge lo ha deciso. Il dito mozzato dalla giustizia è spietato. Ho un cognome da leone. Questa dichiarazione di Tuba Buyukustun ha fatto scalpore sui social media. Vi fornirò i dettagli sull'argomento. Continuate a guardare il nostro canale. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.